Insomma, è tutto così complicato, no? Cosa? Tutto, tutto. Francamente, non trovi che essere donna negli anni Ottanta è complicato? Estremamente. Sai cosa vorrei per una volta? Dimmi. Che un uomo fosse abbastanza sincero da venire da me e dicesse... Ehi, senti, anch'io credo di avere le idee confuse. Potrei farti dei gran complimenti, potremmo fare un sacco di commedia, ma la semplice verità è che io ti trovo molto interessante e vorrei tanto fare l'amore con te. Così, semplicemente. Non sarebbe un sollievo? Divino. Divino sarebbe. Ma anche Dalsi. Ah. Che vista, eh? Solo Phil può permetterci tanta città. Sai, io ti potrei fare dei gran complimenti, potremmo fare un sacco di commedia, ma la semplice verità è che io ti trovo molto interessante e vorrei tanto fare l'amore con te. È semplice, no? Beh, mica tanto. Olimлин. Olimpi. 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 Olimpi.